ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita ringrazio gli eq studios per questo gioco perché l'ho scoperto cercando un gioco poliziesco un investigativo e questo secondo me è unico nel suo genere questo video si dividerà in due parti la prima ci siamo già dove vi spiego che cos'è questo gioco a chi è destinato la seconda lo proviamo brevemente perché non è un gioco che si può mostrare in un video a meno che non si facciano degli editing pazzeschi e soprattutto vi bruci tutta la trama come ho trovato questo gioco l'ho cercato un po su steam perché io mi sto prendendo veramente bene con le venture grafiche stavo giocando gabriel knight il gioco che è riuscito diciamo rimasterizzato per il ventesimo anno dall'uscita e devo dirlo che come tutti gabriel knight se non avete giocato oltre spettacolare sono giochi in cui comunque tutto guida abbastanza guidato anche se molto difficili e cercavo un'investigazione veramente difficile ecco questo sappiate che è un gioco dove può essere definito the pain pain creak killings è il nome del gioco come un walking simulator ma non è tutto perché gli sviluppatori mi hanno detto che devo giocarlo con un blocco note davanti infatti come potete sentire ce l'ho ho un libro qui da scrivere leggendo anche un gioco poi dovrebbe dirmelo di usare un blocco note e poi leggevo anche di altre persone che dopo dozzine e dozzine di pagine scritte sono riuscite arrivare alla conclusione la vicenda dura dalle 10 alle 20 ore quindi non è neanche poco per un'avventura grafica investigativa e che cosa dobbiamo fare beh noi siamo janet una emergente giornalista che si reca sul consiglio del suo editore in questa città che potete vedere qua in sfondo una città abbandonata dove dovremmo investigare sulla scomparsa e la morte dei cittadini si leggerà molto si camminerà altrettanto ma dovremmo essere noi perché non avremo modo di avere indicatori puntatori linee guida di cosa fare leggeremo dei documenti vedremo degli indizi in giro indizi che messi insieme facendo andare effettivamente la mente quindi non usando come esempio in Sherlock Holmes le deduzioni che poi alla fine faceva al computer era la cosa che mi scocciava molto di quel gioco perché alla fine arrivava una conclusione che non avevo neanche valutato ecco questo è un titolo veramente interessante lo iniziamo cominciamo andiamo a vedere un attimino che appunti prendere questo gioco cerca di emulare una certa in una certa misura l'esperienza di un indagine di un vero caso di omicidio dovrai per lustrare attentamente ogni luogo trovare indizi per andare avanti usare le tue capacità di osservazione e deduzione per scoprire segreti nascosti ti consigliamo di prendere degli appunti e utilizzare una macchina fotografica all'interno del gioco la macchina fotografica ne abbiamo una il gioco salva automaticamente ogni volta che entri da qualche parte se dovessi trovare un bug o avere qualche problema durante il gioco se per esempio il tuo avatar rimanesse bloccato dietro un mobile buttato fuori dal gioco usa semplicemente il pulsante ricarica dal menu opzioni per tornare nuovamente all'ingresso va bene iniziamo e quindi per chi è destinato questo titolo beh ve lo spiego subito dopo l'introduzione il capo ti ha affidato un nuovo incarico e spero che questa storia non ti rovini il fine settimana e comunque mi ha detto di chiamati e di dati tutte le informazioni l'omicidio è risolto di qualche anno fa lo ricordi quello di pains creek dove hanno ucciso la moglie dell'ex sindaco a breve la villa verrà messa all'asta quindi non abbiamo molto tempo per scoprire tutte le cose utili per risolvere il caso vedi un po cosa riesci a trovare spero che ci sia qualcosa che meriti di essere ok e comunque occhio ci vediamo lunedì il gioco quando uscì non era in italiano è stato tradotto dopo cosa che ho gradito moltissimo allora adesso stiamo arrivando è tutto buio è destinato a una cerchia di utenti molto ristretta secondo me perché dovete essere un po come me adesso vedete qua è tutto tradotto c'è il documento ovviamente dobbiamo prendere la fotocamera è tutto tradotto molto bene ma vediamo perché ci sono anche delle zone evidenziate adesso vediamo 3 agosto 99 chi ha ucciso vivian roberts nel 1995 i documenti poi sono consultabili comunque perché ce li abbiamo con noi in tasca nel 95 vivian roberts imprenditrice di successo e moglie di un ex sindaco fu assassinata e lasciata di fronte a casa sua il caso non fu mai risolto e l'assassino non fu mai trovato si dice che un investigatore privato sia stato a painskrieg qualche tempo più tardi ma non si sa di più nulla di più al riguardo la scorsa settimana abbiamo saputo che perso dei grandi pezzamenti di terreno all'interno della contea di painskrieg verranno messi all'asta vorremmo indagare nuovamente su questa storia e tentare di scoprire quanto segue chi ha ucciso vivian roberts per quale motivo qual era l'arma del delitto invia quello che riesci a scoprire insieme a una foto per la pubblicazione della storia ha una foto evidenziato ok evidenziato quello che è la firma di richard harris editore non dimenticarti di portare la macchina fotografica bene usciamo mouse guardati intorno vast ci si muove siamo arrivati in macchina vuoi andare via da no ragazzi non voglio il finale perché alla fine non voglio che finisca l'avventura subito ma ho già preso la macchina fotografica sì 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 ce l'ho ho il beige siamo Janet Kelly la mia testa da giornalista la fotocamera digitale nuova di zecca da 2,1 megapixel fornita dall'azienda e il primo documento l'obiettivo della missione perfetto il gioco graficamente non è una meraviglia diciamo normale insomma niente di spettacolare population zero pain streak praticamente sono dati via tutti e risolveremo anche questo mistero dobbiamo andare in giro e guardare c'è qualcosa attaccato alla finestra potrebbe essere importante cancello cimitero lucchetto 103 1 1 3 1 e inizio a prendermi il mio primo punto allora 1 1 3 1 mi divido 1 1 1 3 1 lucchetto cimitero me lo segno perfetto il poi è tradotto anche quello quindi non c'è problema entra dicevo per chi è destinato questo gioco non mi soffermerò molto poi adesso giocare a tentare perché me lo goderò con molta molta calma il gioco adesso ha salvato quello che voglio dirvi è che questo gioco come già vi stavo accennando si può accendere la luce funziona l'elettricità è dedicato probabilmente a una minuscola minuscola parte di voi perché io ho trovato questo gioco appunto cercando un qualcosa come gabriel knight dove però mi facesse veramente sentire un investigatore farmi sentire veramente come in un escape room perché alla fine in quei giochi tutto guidato non sai che cosa fare alla fine vai a vedere magari suggerimenti di gioco come in gabriel knight suggerimenti mi sa di un po di spoiler però in effetti guardandoli mi amare già un po perché sono cose che non mi sarebbe mai venuto in mente da fare tipo vai là ma perché devo andare in quel posto lì e parlare con lui se ci ho parlato il giorno prima per far andare avanti la storia quindi una cosa che comunque non mi è piaciuta tanto quindi adesso qua è chiuso abbiamo siamo ovviamente nel gabbioto adesso della della guardia e c'è una prigione che è chiusa abbiamo una porta da parire possiamo andare a vedere al momento io non vedo grossi grossi indizi adesso noi alcuni interruttori non funzionano trovo un altro modo per vederci meglio il buio che dovevo trovare una torcia apriamo a quella ci si scatta la foto volevo abbassarmi invece col conto ok quindi come dicevo se cercate un gioco dove volete investigare voi camminare vi volete prendere quelle 10 20 ore in varie giornate in cui entrate investigate prendete appunti vagate anche a vuoto per per ore insomma è è una buona può essere una buona soluzione questo titolo insomma ok vuole poi usarlo però vorrei capire come si usa me l'ha spiegato un attimo fa ma ok con la l vediamo non c'è nulla non voglio scattare la foto ok si può prendere lo specchio no no però qua è tutto tutto rovinato poi non è un'ora non ci sono jumpscare è tutto così c'è una mappa questa è la mappa della di pains creek old creek c'è la villa del sindaco adesso quasi siamo nell'ufficio dello sceriffo qui è il state il fiume arriveremo poi nella piazza insomma dovremmo servizio postale potremmo esplorare non ci sarà nessuno cioè vagheremo da soli scopriremo documenti scopriremo varie cose vari indizi per poter proseguire con l'avventura qua non abbiamo nulla di interessante possiamo esaminare il fax voglio solo assicurarmi che il pacco sia stato inviato allora inizio già a prendermi steven steven pacco locanda locanda di anna questo è il modo in cui dovete giocare questo titolo poi il messaggio la possiamo risentire quindi non è che rischiamo di perdercelo però è per mettere insieme tutti i pezzi quindi praticamente pacco alla locanda di anna mandato allo sceriffo qua abbiamo dei documenti che non è nulla di importante possiamo andare a aprire anche lo schedario per lo schedario chiuso con una combinazione quindi anche lì dovremmo andare a cercare di capire dov'è il l'indicazione cerca il buco della serra trova l'occhietto che leggiamo dipartimento dello sceriffo della contia di newland gentile sceriffo haward a causa della diminuzione della popolazione della contia di pains creek negli ultimi anni abbiamo deciso di spostare la forza lavoro nelle località che la necessita maggiormente con la presente informiamo che a partire dal 14 maggio 98 il suo posto è stato assegnato alla contia di grande grande la preghiamo i ricassi personal sufficiente anche qui ci sono delle date potrebbe coincidere col fatto che questo tizio qui con lo sceriffo haward è andato via il 14 maggio quindi se l'omicidio è successo dopo lo sceriffo non era qui quindi non potrebbe essere lui j per aprire il registro non possiamo vedere vedete diario giornale altro lettere documenti ok li abbiamo qui non è necessario segnarlo però sicuramente quello che abbiamo visto ad esempio prima il codice applicato fuori per la cimitero insomma il lucchetto e me lo sono segnato qua abbiamo un giornale quindi lo vediamo scotto brooks figlio del prete della figlio del prete della chiesa della trinità di pains creek sospettato l'omicidio di vivene al verso abbiamo un primo sospetto quindi adesso segniamo ci prendiamo l'appunto che scotto brooks è un sospettato arrestato scotto brooks nel pomeriggio vive nel capanno di caccia di roberts vicino a sentire un testimone che per il momento preferisce rimanere anonimo sostiene di essere tornato a casa tardi il 19 luglio intorno alle 23 50 quindi così verso mezzanotte e dice di aver visto scotta allontanarsi molto velocemente dalla villa dei roberts quindi era 19 luglio di line ci si parlava di maggio intorno a in direzione silver lake sebbene scotta sembrasse turbato il testimone non notò niente di strano finché qualche giorno dopo lesse l'articolo sull'omicidio di vivian roberts poco dopo la telefonata la polizia si recone il capanno di scotte e gli chiese dove si trovasse la notte in cui vivian fu uccisa disse di averla incontrata quella notte ma sostiene di non aver avuto nulla a che fare con la sua morte scott fu poi condotto alla stazione per un ulteriore interrogatorio ok e quindi questo finirà sicuramente nel giornale infatti lo vediamo qua abbiamo qualcosa nei cassetti i cassetti veramente questi giochi sono sempre chiusi quasi tutti bello l'umore dei cassetti che si apre lì abbiamo un'agendina e leggi oggi c'è stato il funerale di vivian roberts questo è un diario del 30 luglio quindi dopo il fatto oggi è stato il funerale c'erano bernard il maggior dromo dorothy la cameriera ben l'autista di famiglia e sua madre vanda che sta lottando contro il cancro il marito di vivian che è l'ex sindaco charles è venuto con la figlia triscia charles non ha detto una parola è stato zitto tutto il tempo la maggior parte dei cittadini è venuta al funerale ok quindi qua parliamo di 95 quando lei è morta e ci stanno descrivendo quello che è successo dopo la morte il funerale insomma a metà della cerimonia triscia ha iniziato a piangere rumorosamente dorothy la portata via il pianto si è spento ho notato che dorothy sembrava stanca ok dorothy stanca un altro punto da prenderci deve essere stato difficile prendersi cura di triscia con tutti gli esaurimenti che ha avuto cioè dobbiamo anche andare a leggere tutte queste cose adesso non lo faccio perché me la inizierò per conto mio poi lo giocherò però abbiamo una storia di james howard james howard l'ho letto perché c'è mi è uscito l'achievement su steam però adesso poi non so chi sia insomma qua c'è una storia da ricostruire abbiamo visto un po tutto quello che c'era adesso abbiamo sempre la torcia accesa vi faccio vedere giusto l'inizio del quando non abbiamo la chiave della cella magari pensare di 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 riela appoggiata qua possiamo leggere altri articoli di giornale altre cose è un gioco che probabilmente molti di voi reputeranno noioso ma per chi come voi a voglia come me come mi è venuta giocando a gab el knight gioco che vi consiglio è quello di voler cimentarsi con qualcosa di sicuramente piuttosto più complesso e più che mi fa sentire un investigatore questo è sicuramente un titolo interessante passiamo sopra il buco della serratura vediamo è chiuso no non abbiamo poi non si salta non ci sono cose di bisogna prendere la chiave la chiave non ce l'ho quindi bisogna tornare dentro immagino perché qua non poi graficamente come ho detto non è nulla di spettacolare molto base come gioco però l'idea è assolutamente qualcosa di geniale anche perché comunque se andate vedere su stima delle ottime recensioni quindi e c'è questo caricamento interno allora non ho trovato la chiave quindi adesso il mi metterò a cercarla mi chiedo solo se ci siano poi cose tipo puoi smontare le varie cose trovare le cose dietro e mi chiedo solo la chiave della città dove sia è tutto qua è tutto classificato dovrò iniziare magari aspetta un po perché io sono andato qua ok si può inserire la cosa devo trovare un numero 14 maggio 12 maggio 14 maggio 12 maggio 14 proviamo ma dubito no infatti non funziona 14 12 proviamo a caso perché vai a sapere che cosa ha pensato sto tizio quando ha ha fatto questi documenti classificati dobbiamo dobbiamo cercare meglio dobbiamo andare meglio a vedere nel dettaglio ma voglio dedicarmi da solo per conto mio a questo possiamo dare un'occhiata cioè rispetto story of tonti la cosa bella è che non siamo costretti come in quelle avventure grafiche a dover ogni volta per poter andare avanti fare quella tediosa cosa di esaurire tutti gli argomenti di conversazione con i vari personaggi e giusto per non perderci nessun dettaglio qua il dettaglio ce lo andiamo a cercare noi stessi esplorando quindi dovrò trovare e non ho neanche la possibilità ed è una cosa molto bella di andare in internet a cercare se mi gioco molto di nicchia e di andare a cercarmi una soluzione online quindi questo è molto molto bella come cosa poi io credo che qua anche solo spoiler vi dove trovare la chiave della città piuttosto che della cassaforte dei documenti classificati sia un assoluto delitto quindi quindi non non voglio non voglio assolutamente dire nulla 19 luglio 19 0 7 potrebbe essere vediamo 19 0 7 no dovrò capire perché il bello è che se voi andate a cercare online le varie soluzioni con i suggerimenti di gioco ok dite a che si la soluzione quella quando invece la ragionate voi stessi quindi non cercate una soluzione ma iniziate a capire come ragione al gioco come ragionano le personalità all'interno della dell'avventura la cosa cambia notevolmente quindi io adesso io adesso mi concentrerò ad andare avanti con questa avventura che sembra veramente molto 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 interessante salve i desci ragazzi questo è il gioco the pens che che lens molto l'atmosfera musiche molto belle anche i suoni sono fatti bene spero sia piaciuto anche a voi alla prossima ragazzi e ciao ciao